Il nostro piacevolissimo e graditissimo ospite Andrea Azzori, ente di Bacino Padova 2. Oggi cercheremo di fare conversazioni sostenibili. Sì, cercheremo di dare un senso a quello che stiamo facendo e raccontare qualcosa che non solo radica quello che abbiamo fatto nel passato, ma che abbia valore per quello che stiamo costruendo nel futuro. E non sono chiacchiere. Nel senso che cercheremo di trovare delle nuove soluzioni per riuscire a raggiungere la popolazione con le raccolte che facciamo, con le raccolte differenziate, con l'intenzione di aumentare queste raccolte differenziate, cercare di produrre di meno e sviluppare quella cultura che sia sostenibile e non solo applicata ai rifiuti. Noi ci occupiamo solo di rifiuti, ma è una cultura che si deve estendere ai trasporti, alla logistica, al parcheggio, all'utilizzo dei servizi pubblici, a capire che la città è nostra e che dobbiamo viverla come fosse una parte nostra. Quindi viverla nella particolarità della città, cercando di tenerla pulita, tenerla ordinata ed essere una città accogliente. Questo è l'elemento fondamentale su cui costruiremo e stiamo costruendo la comunicazione e la struttura del nostro ente. Tu hai parlato di comunicazione, che è un elemento, un argomento che investe e taglia attraverso la manifestazione. Quindi anche oggi faremo comunicazione e cercheremo di stabilire dei paradigmi, se è possibile, per quanto riguarda la comunicazione ambientale. Sì, sì, sì. La comunicazione, noi abbiamo seguito moltissimo la comunicazione in questi anni. Questo a questa volta, la Ravenna 2012, forse è la volta che l'abbiamo fatto di meno. Nel senso che non abbiamo fatto workshop, non abbiamo seguito una serie di cose e ci siamo concentrati più sulle tariffe anche a causa di questa crisi economica, eccetera. Però quello sul quale noi stiamo spostando la comunicazione oggi sono i social network. Per cui più che una comunicazione di convegni, più che una comunicazione di informazione fisica, quindi in un posto, stiamo attraverso Nuova Ambiente e tutti gli account dei social network cercando di comunicare nel modo più ampio possibile quello che stiamo facendo e quello che fanno anche gli altri. Abbiamo twittato tutti i nostri lab meeting, ci sono state tutte le descrizioni di quello che abbiamo fatto su LinkedIn e stiamo cercando di creare una rete per costruire questo sistema. Tra l'altro il camp, l'incontro di questa mattina, è patrocinato da Nuova Ambiente. Sì, Nuova Ambiente ha sempre partecipato attivamente a Ravenna 2012. Il Ravenna 2012 è sempre stato considerato uno degli eventi a livello di, chiamiamolo Nord-Est, quindi tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, ce le mettiamo dentro se mi permettete, e il Trentino Alto Adige, comunque come uno degli elementi fondamentali per l'informazione, il trasferimento di informazioni insieme naturalmente alle fiere di Rimini e di Padova. Per cui abbiamo approfittato, diciamo, da questo punto di vista, dell'occasione di poter dire quello che si sta facendo e cercare di spingere l'informazione il più possibile. Grazie a Nuova Ambiente, grazie a Lente Di Baccino, buon Labecamp, ci sentiamo più tardi per il manifesto conclusivo che cerchiamo di stilare quest'anno. E anche a voi, grazie mille per l'opportunità. Grazie, grazie.